san pietro alle porte del paradiso apre la porta entra il primo vecchietto come si chiama lì michele allora michele io tengo tutto scritto su di te nel registro voglio sapere se lei ha mai tradito sua morte no mai tradito conferma c'è scritto mai tradito quindi lei ha il diritto di girare in ferrari nel paradiso passa mezz'oretta e sale un altro vecchietto come si chiama lì roberto roberto mi devi la verità perché io qui nel registro so tutto di te cosa che sei fatto a tua moglie hai tradito qualche volta san pietro tre quattro volte nell'arco della mia vita che poi non è assai ammetto che sei stato onesto puoi girare con la panda 75 tipo vecchio in baranghese arriva il terzo come si chiama giuseppe giuseppe che hai fatto tu hai tradito tua moglie vedi che io tengo tutto scritto di tutto ho fatto di tutto con le olandesi con le teresche spagnole italia ho tradito mia moglie una infinità di volte capisco capisco ammetto che sei stato onesto perché qui si è scritto la stessa cosa puoi girare imparati in bicicletta e si mettono a girare guarda la bicicletta incontra quella con la ferrari non in croce e noi dovevano la ferrari piangere scende la bicicletta ma che piangere tu con la ferrari piangere io con la bicicletta che devo dire risponde con la ferrari sì è vero con la ferrari però ho visto passare mia moglie col monopattino